faresti una pizza a cornucopia guagliù dal latino cornucopia corno dell'abbondanza e quindi una pizzichina in avanzione ce ne hop là in un forno cottura lenta docile e mai aggressiva la cornucopia è pronta e va sfornata sì ma va anche completata e allora ciliegine di bufala il basilico a crudo e ancora un filo d'olio guagliù guardate quanto è bello guardate che spettacolo semplice ed efficace replicate ma non imitate perché pura cornucopia sta da sapere sa adda sa peffa salrico